Ha scelto Amira e Nelly 3 punti Ciao a tutti e bentornati nella terza parte della Yoga Challenge Le squadre stavolta sono di Amira e Chiara e Elena e Nelly Iniziamo con la vita Nelly e Elena Era più quadrato Si era più quadrato Grazie 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 a mira e chiara a mira e chiara 2 a 1 potete ancora vincere entrambe ragazze vai questa no una dividita no si si allora la tua gamba piegata deve considerare quella è mia destra tu la pieghi o no? no ma in più no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non è in verticale, ragazze, una è in ponte e una è tipo... Sembrava questa e questa. No. No, non è in ponte. 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 No, non è in ponte.